Salve, sono Enrico Favilla, chef dell'antica trattoria di Sacerno, da Calderara. Vi presento il mio piatto per il concorso. Primo piatto pasticcio dei campi, lo spaghettino, capperi, limone e brisione di mare. Queste brisione di mare sono costituite da queste lastre di quattro quarti di pesce e con tutti i scatti del litico che lavoriamo qui al ristorante. Il nostro ristorante è esclusivamente di pesce, quindi sono cospicui. Una volta essiccate, vengono processate fino a ottenere delle brisione che ricordano un po' quelle di pane. Alla base del piatto, questo confini di limone, ottenuto dalla parte dell'interità del limone, le fade vengono cotte nei loro succhi e nelle mucce. In questo modo otteniamo il 100% dell'aroma del frutto e abbiamo quasi il muro di spreco. La pasta invece viene risottata in quella che è un'acqua di capperi, riducendo così al minimo la quantità di acqua necessaria per la cottura della pasta e preservando tutto di ero. Alla fine, appunto, scopriamo le nostre brisione di mare.